Be safe, be rock! Ciao, bentornato! Dalla pandemia praticamente ci siamo connessi, abbiamo acceso i riflettori di Rock'n'Safe e proprio nella pandemia ci sono state, nel dolore e preoccupazione che abbiamo avuto tutti quanti, c'è stata questa esplosione dell'attività online che ha permesso nuove conoscenze e nuove connessioni. Questo mi ha permesso di conoscere l'ospite meglio, l'ospite di oggi, con cui si è stretta fra l'altro una bellissima amicizia perché non solo è una persona con cui è gradevolissimo parlare ma ha dei contenuti veramente di spessore. HSE di una grandissima azienda, non solo, fa autore insieme a un'altra amica, Veronica Bonanomi, di una rubrica di safe sul Clubhouse che ormai sta consolidando il suo valore visto che tante, sempre più persone si stanno avvicinando, anzi, avviciniti anche te ogni venerdì alle otto e un quarto. Beh, comunque, questi sono solo preamboli e quindi sono contentissimo di avere con noi Francesco Marella. Buongiorno e benvenuti a tutti, grazie per questa ospitalità. E' sempre un piacere collaborare con Stefano, con voi, di Rock'n'Safe perché questa ventata di comunicazione trasgressiva, coinvolgente, ci serve assolutamente. Guarda, il tema che volevo sviluppare con te Stefano oggi è proprio il tema della comunicazione, con un tema abbastanza attivo. Infatti, ne parlavamo appena prima di aprire questa puntata. Sulla comunicazione noi ci siamo confrontati, anche su BeSafe, sappiamo che è un tema importantissimo. E su questo, insomma, te fai i tuoi studi e poi tutte le tue congetture e deduzioni, vero? Beh, diciamo che il tema della comunicazione l'abbiamo sviluppato molto anche nel nostro, nel tuo magazine che è uscito qualche mese fa, Rock'n'Safe Magazine, perché è importante dare visibilità ai nostri valori, ai nostri contenuti, ma la comunicazione, come sappiamo, è uno strumento per coinvolgere le persone e che spesso e volentieri noi uomini di HSE siamo molto più tecnici che capaci di comunicare, di coinvolgere. Anzi, spesso e volentieri pensiamo che le persone facciano le cose un po' perché lo dice la legge, un po' perché lo dice un senso etico, ma in realtà non è quasi mai così. Le persone vanno sempre coinvolti. Anzi, la comunicazione in realtà, quella che funziona, è una comunicazione che chiede e, diciamo, coinvolgere la misura in cui le altre persone sanno cosa fare. Come sai, come ho raccontato più volte, io sono nato un po' come RSVP, come tutti quelli che fanno il mio mestiere. Beh, bene, anch'io. Ma sì, è chiaro che tu incontri questa cosa da ingegnere, la legge, e pensi che la legge sia la soluzione del problema sicurezza. Sappiamo benissimo che non è così, cioè le vicende dei giornali quotidiani ci dicono che assolutamente non è così, che la legge è la base di partenza, la noccia solida in cui ci sediamo tutti, ma è una base di partenza. Sicuramente se la legge fosse efficace, così come è scritta, le persone la sentissero propria, allora non avremmo queste morti al giorno che purtroppo abbiamo sia nei cantieri che nelle strade. Beh, secondo me il presupposto, Francesco, è molto semplice anche, non è che noi qualsiasi cosa leggiamo, lo prendiamo come assunto e lo trasformiamo fra l'altro in comportamenti in pratica, bisogna convircene, nel frattempo ho cercato, guardate che bella, il santino di Francesco e Mitsubishi che ha partecipato a questo progetto che ha avuto così grande successo. Quindi come si fa dalla parola o dalla frase scritta di una procedura, di una regola, a trasformarla in un comportamento? Bravissimo, il tema è proprio quello che spesso e volentieri il legislatore dà per scontato appunto tutta una serie di regole tecniche. Ci dimentica ad esempio che gran parte degli infortuni in realtà non derivano da carenze strutturali o da inadempienze legislative e gran parte di infortuni, ma questo possiamo analizzarlo noi stessi, analizzando la raccolta Nermis, la raccolta di infortuni, che gran parte, più o meno 80%, se non spesso anche il 100% degli incidenti, accade perché le persone e le regole le conoscono. Ma la consuetudine o quello che chiamo io feedback, che ho ricevuto negli anni, ha consolidato un comportamento sbagliato. Io domando sempre ai corsi di formazione, quanti di voi si fermano davanti a un semaforo giallo? Eppure il colcio della strada lo dovremmo conoscere tutti, visto che tutti viene la patente, no? E quindi il colcio della strada ci dice che il semaforo giallo dovremmo fermarci, ma la consuetudine, l'urgenza del momento, la contingenza ci dice magari che per non arrivare in ritardo magari passo col giallo. Anzi, accelero per evitare di trovarmi il rosso dopo qualche giorno. Eppure se ho preso una multa di recente, ecco che forse mi fermo prima, no? E quindi nel tempo ho capito che il feedback, io ad esempio in tutti i miei stabilimenti ho avviato da anni dei processi di BVS, perché è chiaro che siamo tutti consapevoli che la consuetudine in realtà la fa da padrone, che l'ambiente in cui viviamo immersi la fa da padrone, che gestire il feedback e la comunicazione è in questo senso indispensabile per cambiare i comportamenti sbagliati. Quindi comunicare. Ma comunicare come? È molto complesso, perché noi siamo tecnici, come dicevano, quindi noi siamo molto capaci, quasi attaccati all'ufficio legale, no? Quindi delle persone che riescono a entrare nel merito di aspetti tecnici con le persone della manutenzione, con i dirigenti, ma capaci di coinvolgere, quasi come fossimo dei politici, a farci votare questa cosa che chiamiamo valori per la sicurezza, è una cosa molto complicata. Una delle chiavi di lettura, una delle cose che mi sono molto innamorato nel tempo è stata la curva di Bradley. La curva di Bradley, che ho stampato una bellissima slide qui. Bellissima slide. Bella, tra l'altro, molto bella. Sì, è quella che utilizziamo in azienda e che abbiamo fisso nelle pareti della nostra azienda. Fatalmente cosa dice questa curva? Questa curva dice che c'è un passaggio da reattivo a proattivo. Che è quello un po' che vogliamo. Una proattività cos'è? Quando le persone in team si aiutano un luco per l'altro, benché questo sia scritto nella legge della sicurezza, questo di fatto avviene quasi mai, che le persone abbiano cura degli altri. Ma se ci sono dei valori forti, allora questo magari può avvenire. Allora, la curva di Bradley ti insegna che se tu comunichi, coinvolge le persone, allora tu puoi ottenere da questa persona una cultura diversa. Ecco, la cosa interessante di questa curva, che io amo sempre raccontare ai nostri manager, che è una cosa abbastanza evidente, che se le persone sono coinvolte, ci informano dei problemi di qualità, ci informano degli sprechi. E quindi, chiaramente, se tu organizzi la tua azienda creando il coinvolgimento, non dall'alto verso il basso, ma coinvolgimento reale delle persone che, diciamo, sentono proprio i valori aziendali, quindi sentono l'anima dell'organizzazione, allora l'azienda è più efficiente. Ecco, hai ripetuto più volte coinvolgimento. coinvolgimento, io ho capito cosa intendi, ma per coinvolgere, quindi come coinvolgiamo le persone? In che modo? Allora, diciamo che in parallelo, ho preparato questo altro slide, quel pennarello, in parallelo alla curva di Bradley, di fatto c'è quest'altra curva, che peraltro viene molto utilizzata da chi studia la behavior based safety. Nel senso che la performance di sicurezza cresce con la cultura di sicurezza, passando sempre con una volta, come cita la curva di Bradley, da una cultura dipendente a una cultura interdipendente, senza che parlare verso, parliamo con e parliamo in modo attivo, cioè il dialogo dove viene richiesto alle persone di dire e fare delle cose. Banalmente la cultura dipendente, che è la base di partenza del decreto 81, se vogliamo, dove il preposto dice di fare delle cose, quindi talking to, quindi ti dico di fare delle cose e tu potenzialmente le fai, spesso non le fai, fino all'ultimo livello, in cui tu hai una cultura appunto di dialogo attivo, che è un po' la maniera che insegno spesso ai nostri team leader di dire, anziché dire cosa fare, domanda agli tuoi collaboratori cosa ti ha impedito di fare questa cosa. Lasciamo le domande aperte, non facciamo domande chiuse. Allora, se tu poni una domanda aperta e la poni anche in questo modo, diciamo a quanto gradevole, beh, allora la persona magari è ingaggiata nel dirci il suo punto di vista e tirar fuori magari quelle magagne che non vedi tu capo, ma loro, i colleghi della fabbrica, vedono benissimo. Allora, cominciare a fare delle domande aperte e cercare di coinvolgere in questo modo i colleghi nel dare quello che in realtà spesso vogliono dare. Quante persone, e qui mi rallaccio, anche il tema delle grandi dimissioni, vanno via perché i capi non ascoltano. Quindi spesso e volentieri le persone in fabbrica vogliono collaborare, dirci le cose che non vanno bene, ma spesso siamo noi nei modi con cui ci poniamo, con cui dialoghiamo, che non ascoltiamo, no? Vi dico sempre, un responsabile che non ascolta e circonda due persone che non hanno uno da dire. Il dialogo attivo in realtà non è una cosa molto complessa, è cominciare a usare delle frasi aperte, delle frasi propositive e ascoltare in realtà. Quindi paradossalmente. Secondo me l'effetto immediato innanzitutto, Francesca, è che prima di tutto i colleghi si sentono persone, perché quando io ti chiedo con interesse la tua opinione o insomma analizzare quello che non è andato, ovviamente sempre in forma interessata, ti individuo come una persona e non come un vaso vuoto dove buttare. Secondo di poi, beh, chi di noi, quando consapevolizziamo un qualcosa, no? Perché te mi fai una domanda, io rispondo, sì, ho fatto questa cretinata effettivamente. Allora lì realizzi, no? Realizzi concretamente e non se qualcuno mi dice che ho sbagliato, perché qualcuno mi dice che ho sbagliato è un qualcosa che viene dall'esterno e molte volte trova scudo, no? Perché poi tutti vogliamo avere ragione della vita in qualche modo. È vero, è vero. E voi, mi subisci a brevio per la dicitura i dronics, il cooling. È un po' lunghiero, sì. Però a forza di ripeterlo, oggi lo ricordo. Questo cosa prevede? Un programma di educazione? Ti hai parlato di team leader, no? Certo. Quindi non è un programma di informazione che sono programmi basati anche sulla BBS, sulla gestione del feedback. C'è sicuramente un passaggio molto forte in cui ai nostri safety leader insegniamo appunto la modalità di osservazione e soprattutto la modalità di dire le cose, ma soprattutto di ricevere le cose. Perché spesso volentieri è abbastanza facile, no? dire le cose che non vanno bene. È un po' più complicato avere l'occhio di osservare le cose che vanno bene invece. E quindi in qualche modo cogliere l'occasione per ringraziare e rinforzare i comportamenti corretti. E questa è un po' la base di partenza. Perché se la persona è incoraggiata nel fare già quello che sta facendo bene e nel migliorarsi, passa l'idea che non siamo un'azienda punitiva, ma che lo spirito è di far crescere e migliorare le persone. Allora è chiaro che se tu osservi, ed è non è facile, osservare le cose che vanno bene, è più facile osservare le cose che vanno male, le deviazioni del processo. Gli oditi, se ci pensi, di certificazione sono tutti così, cioè cercano di identificare le derive dal processo, non le cose che vanno bene. Ma se tu sei un bravo capo, cerchi innanzitutto di cogliere le cose positive che fanno i tuoi collaboratori. Di conseguenza rinforzare e far notare che tu te ne sei accorto. Questo fa crescere all'interno di loro uno spirito sicuramente più collaborativo perché sanno che il capo riconosce se tu fai delle cose buone. E di conseguenza si crea quel clima di ascolto per cui il collaboratore che sa che nell'azienda c'è uno spirito di miglioramento continuo, allora sa che può proporre, può osare, può assenerare che quelle cose che magari in un'altra azienda saresti visto come una spia o saresti visto male dai colleghi. E l'altra cosa che insegniamo è ricevere il feedback e tu sai benissimo che tutti quanti noi siamo un po' permalosi dentro, è difficile che qualcuno ci dica e che noi accettiamo che abbiamo sbagliato qualcosa. E quindi in qualche modo instaurare un dialogo attivo permette non solo appunto di consolidare e di osservare le cose che vanno bene ma anche di andare più consapevoli che non corsa un miglioramento anche noi dobbiamo migliorare e quindi se i nostri colleghi ci dicono che come capi che siamo molto osservati in fabbrica ma anche fuori dalla fabbrica devo dire i capi sono molto osservati quindi se i capi sanno che hanno sbagliato e glielo dicono la citazione è già un buon punto di partenza per il miglioramento. Questo è tutto il nostro percorso di formazione che accade un po' a tutti i livelli oggettivamente perché l'arte di comunicare deve partire dai nostri migliori operai fino ai nostri migliori dirigenti. e quindi creare una cerchia e via via allargarla mamma mia descrivi un qualcosa che a mio avviso ha profumo di torta di mela mi piace un altro aspetto importante perché secondo me questi sono poi elementi che magari qualcuno che ci ascolta può poi elaborare come misurare quindi abbiamo un programma del genere come misurare quali possono essere i KPI su cui misurare la bontà dell'iniziativa del programma che vuole appunto andare a dialogare in sostanza con le persone invece di far calare gli ordini dall'alto voi avete dei KPI? abbiamo delle misure dirette e indirette la classica misura indiretta è la capacità di fatturare di ridurre di sprechi la misura indiretta è che se effettivamente tu hai una cultura di questo tipo chiaramente avendo anche gli 80 stabilimenti dove questo è più sviluppato ha il minore assenteismo e il minore performance ad esempio questi sono KPI indiretti indiretti perché? perché tu non hai una diretta correlazione tra quello che fai e quello che accade delle misure invece più dirette non siamo un po' malati di misure la logica ad esempio è che come tu tramite il protocollo BBS misuri i comportamenti delle persone e ovviamente devi misurare tutti i comportamenti quindi avendo evidenza di quelli giusti e di quelli sbagliati quindi quando tu fai un audit dicevo prima tipicamente misuri solo le difformità quelli sbagliati in una buona checklist misuri le cose giuste e le cose sbagliate quindi hai uno specchio della realtà ecco noi non misuriamo solo i comportamenti agiti degli operai ma misuriamo anche i comportamenti agiti dei nostri manager quando faranno le riunioni quindi ad esempio se in una riunione di coordinamento abbiamo una checklist di due pagine dove ad esempio misuriamo il fatto che il manager guardi quando parla i collaboratori faccio domande aperte misuriamo il fatto che il manager ringrazi quando vengono fatti degli spunti e semplicemente mettiamo delle stanghette alla fine di questa riunione noi diamo il feedback al manager dicendo guarda la riunione è durata come era previsto venti minuti avevi tutte le persone molto attente hai ringraziato tre volte e così via questa è una maniera per migliorare la capacità di gestire una riunione che di fatto è una capacità oratoria di ingaggiare le persone in un tempo breve e di dire le cose basandosi su fatti non su opinioni ad esempio ecco noi diciamo di misurare tutto il più possibile sulle riunioni che poi anche qui in Italia io ho letto tante cose siamo a Bezzi alle riunioni fiume che a volte sono inconcludenti avere un osservatore esterno effettivamente insomma raddrizza raddrizza molto il tiro sia in termini di qualità della della riunione stessa che poi nelle capacità della persona che se detta così sembra una cosa molto cervellottica però in realtà sono cose che tu dovresti fare normalmente però se tu come dici come dici correttamente non hai un osservatore esterno che ti guida no le fai o le fai male e di conseguenza avere qualcuno che con spirito di miglioramento ti dice dove hai sbagliato e dove invece puoi rinforzarmi è chiaro che invece tu puoi migliorare i tempi di riunione il coinvolgimento il fatto che poi cosa importantissima quello che chiamo la cascata delle conseguenze è che le cose che tu dici in riunione vengono dette in fabbrica perché è chiaro che la riunione è all'obiettivo che le cose concordate e dette vengono trasferite dai tuoi responsabili di linea agli operai esattamente come le avete discusse in riunione quindi anche questo non è qualcosa scontato è su stabilimenti molto distribuiti come i miei e parlando di coinvolgimento lo stesso messaggio se è privo di un grande coinvolgimento non riceverà mai quel valore da parte delle persone rispetto a qualcosa che lega che motiva le persone e che escono quindi dalla porta della sala di riunione o da una ma assolutamente tu pensa che alla fine io avevo dei team leader che avevano coniato questo slogan che alla fine della riunione di linea dicevano che durava 10 minuti dicevano beh ragazzi buona sicurezza a tutti ah beh è una slogan così semplice ma di così grande impatto beh sì bello bello perché poi insomma se il detto veramente dal profondo è un bellissimo messaggio beh io hai fatto una lezione magistralis per chi magari ci sono tante persone però l'aspetto importante è che l'HS e l'RSPP non può pensare che far lui la sicurezza e tutti gli altri se vogliamo un po' fare un brevissimo riepilogo tutti gli altri vedono calare dall'alto regole procedure o altro oggi c'è proprio necessità di confrontarsi dialogare e come hai detto insomma convergere verso una comunicazione che sia quanto più proattiva che apra il dialogo e renda le persone proattive vero bene ti ringrazio Francesco ben l'ultimo appuntamento che ci vedrà chiacchierare insieme di sicuro ci vedremo ogni venerdì festivi permettendo immagino su Be Safe e vi faccio i complimenti perché Be Safe è diventato veramente un crociolo di grandi grandi pensieri grandi idee complimenti grazie anche alla tua partecipazione ovviamente di cui però è bello perché poi quando insomma non è scontato che le persone si avvicinino e generano aggregazione però tra l'altro su un social che ha vissuto il suo picco ma nel passato in realtà voi su Clubhouse state veramente andate alla grande saluto Veronica visto che parliamo di Be Safe è bello creare quante più occasioni possibili non smetterò mai di dirlo per confrontarsi parlare di sicurezza tante volte sfociamo anche nelle risorse umane perché poi alla fine siamo parenti l'obiettivo è parlare insieme e crescere insieme parlare insieme è vero quindi ci vediamo di sicuro venerdì cari amici che ci ascoltate venite tanto ci trovata alle 8.15 su Clubhouse grazie davvero Francesco e complimenti per il lavoro che continui a fare nella tua azienda ma che può essere di esempio per tante altre realtà che sono ancora lì che devono capire come organizzarsi grazie davvero grazie ancora ciao Francesco alla prossima ciao Stefano beh che dire insomma Francesco vorrei intervistare una volta a settimana e di contenuti che attenzione quando si parla di comunicazione non è che gli aspetti tecnici ce li dimentichiamo vediamo che lo stesso Francesco insomma quando parla di comunicazione fa riferimento alla curva di Bradre quindi degli studi ben fondati una cosa è certa che con il coinvolgimento delle persone far parlare le persone possiamo arrivare a un qualcosa che è un win-win insieme se continuiamo a disporre regole a destra e sinistra continueremo ad avere interlocutori che sbuffano quando sentono parlare di sicurezza e questo non è né buono per loro ma sicuramente nemmeno buono per noi che di questo facciamo uno uno stile di vita e uno scopo per la nostra vita quindi parlate dialogate con i vostri collaboratori come Francesco e noi ci vediamo la prossima settimana be safe be rock grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.